. Incidente nella mattinata di giovedì 22 agosto, poco dopo le 8.30, sulla strada provinciale 87 che collega San Benigno Canavesa a Bosco Nero. Una Mini One, diretta a San Benigno, è uscita di strada e dopo aver percorso alcuni metri sul prato, ha terminato la sua corsa contro la pila del muretto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa Valpianese, la Croce Rossa di Chivasso, l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco di Volpiano, la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Chivasso. L'uomo, un 46enne di Volpiano, dopo essere stato estratto dalle lamiere è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno caricato sull'elisoccorso e trasportato all'ospedale CTO di Torino. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ha certamente incorso sulle cause del sinistro. CTO di Torino.